Buonasera, innanzitutto grazie per essere qui, vorrei ringraziarvi per la prima volta che mostriamo tutti e tre i corti insieme, quindi grazie anche a voi per aver fatto questa cosa a Polle. D'abord, merci, merci d'être là, c'è la prima volta che possiamo visionare le tre conmetrage in un momento, e quindi merci al festival également. Diciamo che il rapporto che i corpi hanno con i lunghi è una cosa che non si evolve, che si è evoluta tanto nel tempo. Il primo corto, cioè la prima volta che sono sceso a Gioia e Rauro, l'idea era solo di fare il primo corto che avete visto a Chiana, non avevo in mente già una trilogia di fare altri corti, di fare altri lavori. La relazione con i corti insieme cambia molto nel tempo, per esempio, quando mi sono andata a Gioia e Rauro per realizzare il primo corti insieme, non avevo in mente una trilogia, pensavo solo di realizzare a Chiana. Per fortuna, quando sono andato giù per fare il casting per trovare il protagonista, ho conosciuto Kudu Sehun, che è il protagonista del corto, di Chiana, che vediamo anche in Aciambra, che è anche il protagonista di Mertraria, è uno dei protagonisti di Aciambra a lungo. Lo so che... faccio un po' di confusione qui. E quando mi sono andata a fatto il casting per trovare il casting per trovare la persona che aveva il primo ruolo, e è a questo momento che ho conosciuto Kudu Sehun, che è il primo ruolo in il corto metrale a Chiana, ma che è anche in Mediterranea, e che è anche l'un dei protagonisti del corto metrale a Chiana, che sape che è complica, ma anche io confondi ancora sempre.